Ogni tanto, però, i tatuaggi si confondono con le cicatrici. Ecco, questa è Via dei Giorgofili, che prende il nome per questa famosa istituzione che c'è, l'Accademia dei Giorgofili. Purtroppo, però, ricordo dei fiorentini, ma di tutta Italia, ed è la strage che è avvenuta qui, la strage dei Giorgofili. E si vedono tuttora tutti i segni, come la ristrutturazione. Insomma, qui è scoppiata la bomba, che nel 1993 ha ucciso cinque persone, un vile attacco mafioso che voleva colpire la cultura, perché confina con gli uffizi. E ho avuto piacere che l'operazione, quando hanno arrestato Denaro, si chiamasse Tramonto, come la poesia della piccola Nadia, che aveva scritto poco tempo prima. Grazie a tutti.